Gesù ha donato la sua vita. Ora viene staccato dalla croce e avvolto in un lenzuolo. Bisogna fare in fretta perché per la tradizione ebraica sta per iniziare una grande festa e non si possono lasciare dei morti appese a una croce. La verità che avrebbero dovuto pensare invece quanto è grave togliere la vita a qualcuno. Ma intanto Gesù è deposto dalla croce e avvolto in un velo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Per tutto quello che hai fatto gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Finalmente sei staccato dalla croce. Ora mentre il tuo corpo è custodito la tua anima affianca quella di tutti quelli che ti hanno preceduto nella morte. Ora custodisci e ama anche loro come hai amato noi.